Buongiorno! 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 Cosse! Buongiorno! L'ultima parola è Mattia! Tutti a terra! mazzi le ultime parole sono no lì fermi no lì no oddio ho il paura backstage il secondo giorno guarda come sporci l'insalito con lo scopetto oia tienla tienla non c'è non c'è non si c'è male è malissimo è buon è buon è malissimo è buon non ne ho ha 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 il corso il corso è buono il corso il corso il corso Noctone! Il concetto che vorremmo trasmettere a tutte le generazioni è soprattutto ai più giovani Soprattutto ai più giovani che credono che l'artista di circo di strada sia un lavoro semplice, un lavoro facile Ma è comunque un artista di circo di strada Grazie a tutti Grazie a tutti